Oddio! 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 Oddio santo! Lo spavento e lo sgomento di chi in diretta riprende il crollo del ponte Morandi, il ponte di Brooklyn, come lo chiamano i genovesi, quello dell'autostrada a 10 che dal centro città porta verso Savona e poi, 20 miglia, crolla sul greto del torrente Polcevera. Mancano pochi minuti a mezzogiorno e Genova è sotto un violento acquazzone. Guarda! Ragazzi è venuto giù il ponte, non ci credo! Guarda! C'è una macchina con le luci nel mezzo. È un disastro! Un disastro ragazzi, un disastro! È un disastro e si capisce fin dal primo momento, perché se questo camion rimane incredibilmente sul ciglio del baratro, il ponte alto 45 metri ha precipitato nel vuoto decine di automobili e tre camioni. Il 118 parla di disastro epocale e manda sul posto tutte le ambulanze disponibili. In pochi minuti arrivano in massa vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile. Si cercano i sopravvissuti, macchina per macchina. In questo istante adesso i vigili del fuoco, la polizia e i pompieri hanno sentito una voce. Hanno sentito una voce. Il tratto crollato è lungo, circa 100 metri. Sotto c'è il torrente Polcevera, ma ci sono anche capannoni industriali e alcune abitazioni. E da qui vengono estratti dei feriti. Abbiamo due persone sotto, urla questo vigile del fuoco. E mentre si lotta per recuperare i superstiti si contano anche i morti. Prima 10, poi 20, quindi 30 e ancora 35. È una strage e non è ancora finita. Grazie a tutti.